Thomas Beyai, te e la Dark Polo Gang siete allo stesso livello, una merda. Bella raga, sono passato dai miei amici di Noisy e questo è People vs MyKai Snob. Rispondo a un po' dei vostri commenti, vediamo un po' chi è che mi fa girare i coglioni, va? Allora, ZZZTriple93 mi dice, ma davvero fate, mi piace sto sfigato, questo qua è la merda della merda, non so come definirlo, è la diarrea dei nostri giorni. Boh, ZZZZ è evidentemente un sommelier della merda, cosa ti devo dire, sai di quelli che la assaggia per bene, poi dopo ti dice, fruttato, con un gritto gusto quasi di scarpone di mio padre. Mi vado a trapirare nel culo, va? Mohamed, Heidi, Mabruk, chi è quello della strage di Erba? Cosa sta per essere? Come cazzo si chiama? Quanto hanno pagato per non far arrivare sta canzone prima in tendenze? Mi hanno dato 10k che ho speso in cocaina e prostituta. Simone Repetto, ecco, anche questo Back in the Days, che era il compare di Max Pezzali, quello che ballava la Repetto Dance. Che bello quando ci si dissa come ai vecchi tempi, sti cazzi le Instagram stories, sono d'accordo raga, se fate rap fate rap e se no andate da Barbara D'Urso nel senso. Cioè, con rap ci si dissa e non si chiamano gli avvocati, al massimo facciamo a cazzordi. Manuel Stortoni, ma chi è la brutta copia di Sfera? Chi nasce tondo non muore quadrato, chi nasce geoide non può morire pubblico. Mi sono perso, comunque hai detto una gran stronzata, ma in ogni caso ho detto il tuo momento di celebrità, vattene a fare il culo, va? Romero Valkyrio, hai fatto bene a farla perché era rivolta a Fedez e J-Ax, però la canzone mi fa schifo, troppo a Tokyo, poi ci hai i 30 anni, i capelli rosa, i tatuaggi in faccia, che vuoi fare il rap perché sei arrivato così dal nulla, sei uscito dal culo nel senso che non ti conserva nessuno, poi più di un milione di gus, ma intanto Fedez ne ha fatti 100 milioni. Grande, eh? Ti piacciono gli extra vita a te? Romero Valkyrio, mantendo dal presupposto che non ho capito un cazzo, ma i punti focali sono Fedez, J-Ax, 30 anni, rosa, 100 milioni di view. Mi sembri uno sveglio, mi sembri uno sveglio. Quasi quasi, ti telefono uno di questi giorni e mi faccio scrivere una canzone da te, eh? Poi ci spattiamo gli spiccioli di quello di prima, ti diceva, va bene? Non si vede quale faccio lo sveglio, era così. Ormai basta avere due scarabocchi in faccia e sei artista. Yata al zappà. Allora, io a zappare ci sono andato un sacco di volte perché mio nonno è un contadino, quindi vengo da lì e non c'è nessun problema ad andare a zappare, basta saperlo fare. Dopodiché, i tatuaggi in faccia, qua in Italia, sono stato il primo tre re per affarmeli, poi hanno seguito tutti a ruota dopo che è stata sdoganata la cosa. Quindi vedi questo, è il fratello di questi e pigliateli nel culo tutti e due. E invece adesso passiamo, cari amici che ci ascoltate da casa, ai commenti di fa volare. Mad Max 78, Mike, scommetto che sei un ex ravers proprio come me. Sì, ci hai pigliato in pieno, frate. Sì, sì, anni d'oro della Tecno, già is presi tutti. E un po' di cervello qua, un po' là. Forse magari sono piaciuti degli alberi di cervello di Mike in questi anni. Ci hai acchiappato comunque, bella Mad Max 78. Luca chiesa. Migliori le altre canzoni. Questa è un po' una delusione. Invece a Megasa ti fa saltellare e poi non è che in ogni canzone devi per forza sempre dire qualcosa di importante. Ogni tanto ci sta anche prenderne una e poi volare. Maurizio Caldera. Quanto cazzo di autotune hai usato? Ex Mike. No, sono una secchia. Come hai fatto a ridurti così? Ti prego, basta con sta merda. Bushwaka. Non c'è autotune in favolare. Non c'è autotune, a parte c'è qualche effettino nel ritornello. Cioè ci sono 18 ritornelli uno sopra l'altro, ma la strofa è senza autotune. Bruttalomea. Non c'è autotune. Su quei commenti a ruota libera per dire qualcosa. Maurizio Caldera. Applicati un po' di più. Ghe shisha. Complimenti. Ma che sei drogato, 118? Però, sì, no, e verso la fine delle riprese ma si può notare la prima parte dove c'è la luce gialla non ancora. Se invece fai attenzione a me e alle persone dietro di me potrai notare che le facce sono leggermente cambiate durante l'andamento delle riprese. Non era finta quella roba lì. Volare. Volare, 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 volare. Grazie a tutti.